La mappa della disoccupazione questa volta non risparmia le marche. La regione, sempre a metà classifica, il lavoro malato in cifre, conta più di 5.000 posizioni perse nel 2016 con la media regionale della disoccupazione al 10,6%, con un aumento dello 0,7% rispetto all'anno precedente e a un solo punto di distanza dalla media nazionale dell'11,7%, misura che viene superata in due province per la prima volta. A Pesaro la disoccupazione si attesta al 12,5%, sfiora il 15% ad Ascoli Piceno, più in generale i disoccupati sono 73.526, più 6,5% rispetto all'anno precedente, è quanto emerge dai dati ISTAT elaborati dall'IRSCGL delle Marche. Crescono dell'1,8% gli occupati part-time, il tasso di disoccupazione dei giovani diminuisce di un punto rispetto all'anno precedente, passando dal 32 al 31%, nelle Marche quindi quasi un giovane su tre non riesce a trovare lavoro. Le politiche del governo del 2015-2016 avevano puntato tutto attraverso il contratto tutelare crescenti e alla defiscalizzazione del lavoro. I risultati sono purtroppo molto preoccupanti, soprattutto per la prima volta dopo tantissimi anni, due province delle Marche sono abbondantemente sopra media nazionale come tasso di disoccupazione. Che lettura dare? La lettura è quella di un territorio che è in grande difficoltà. Abbiamo visto che gli occupati diminuiscono soprattutto nei settori del commercio, del turismo, della ristorazione. Non è un caso che proprio in quei settori è aumentata a dismisura la precarietà del lavoro, quindi è aumentato l'utilizzo dei contratti di tempo determinato, ma soprattutto è aumentato l'utilizzo dei voucher, che è una forma di lavoro che viene conteggiata dall'ISTAT come occupazione e che invece non bisognerebbe conteggiare. Se depurassimo questo dato dai voucher ci accorgeremo che probabilmente la disoccupazione reale è molto molto più alta.